intanto di chiuso non c'è assolutamente niente perché qui si passa normalmente un nastro non significa nulla una comunicazione senza una firma non significa nulla ma poi la domanda è qualora significasse qualche cosa che significa che le persone che abitano qui non possono accedere alle proprie abitazioni e quindi la domanda è ma qualcuno li ha sfollati ok detto questo vorrei capire una cosa al di là della perdita del gas che ovviamente si giustifica ed è stata già ampiamente riparata ma questo tetto è stato mai sottoposto a revisione perché da quello che mi risulta anni fa io lasciai questa struttura che era perfetta poi lo hanno chiusa per otto anni hanno speso una montagna di euro per farci lavori dentro e non si sono preoccupati della sicurezza è questo il problema siamo certi che qua sopra le tecole sono cadute o qualcuno non le ha fatte cadere perché qua ormai ci chiediamo di tutto in questa realtà sta di fatto che c'è la nostra sede non possiamo accedere né per inaugurarla e né per prendere le nostre cose due assessori interpellati non sapevano assolutamente niente il terzo non ha risposto il sindaco non si sa fatto sta che i cittadini qui non sanno nemmeno se possono andare a casa o meglio ci stanno andando ma la domanda è adesso di chi è la responsabilità di questa chiusura che non è chiusura io lo vorrei capire la responsabilità di capire di questa struttura di chi è perché la tiene se la mette in sicurezza o meno se spendono miliardi dello stato evidentemente qualche giustificazione dovranno portarla chi l'ha chiusa e non l'ha chiusa dovrà dare risposta risposta perché noi denuncieremo il tutto alle autorità preposte ma poi sarà una coincidenza forse troppe abbiamo denunciato le minacce a una nostra candidata le minacce a me e pare che tutte queste coincidenze in qualche modo insomma io non ho visto altre formazioni politiche in queste ore dei soliti noti che hanno avuto problemi insomma magari chissà la venuta esegna dell'ex magistrate in groia antimafia aiuterà anche gli anti soliti noti c'è l'inaugurazione di una sede c'è una formazione politica che è candidata in questa tornata elettorale c'è un candidato presidente c'è una struttura che riceve le mail noi da tutti quelli che conosciamo questure prefetture vigili del fuoco vigili urbani non abbiamo avuto una comunicazione che diceva che non c'era accesso alla nostra sede allora questa sicuramente il resto potrà essere anche coincidenza diciamo ma qui proprio coincidenza non ce n'è